cari amici buonasera benvenuti a questo appuntamento con il libro dell'apocalisse questa sera andremo avanti nello studio del capitolo 14 ed esamineremo il messaggio del secondo angelo so che questa sera ci saranno forse alcune cose difficili da sentire per qualcuno almeno e per cui voglio fare una preghiera speciale voglio anche però fare un invito speciale a esaminare queste cose che ascoltate alla luce della scrittura prendete le note che sono disponibili scaricatele studiatele con spirito di preghiera chiedete al signore di guidarvi nella comprensione di tutta la verità e sono convinto che il signore saprà come guidarvi saprà come rivelarsi a voi quindi questa sera senza perdere altro tempo voglio invitarvi a chinare il capo dove siete e pregheremo insieme caro padre ti ringraziamo che nella tua parola troviamo tanti incoraggiamenti ma anche degli avvertimenti a volte che ci servono per andare sulla retta via o rimanere sulla retta via stasera so padre che ci saranno alcune cose non facili da ascoltare per qualcuno e io ti chiedo che il tuo spirito possa dare comprensione che soprattutto ci possa essere apertura d'animo a sentire forse qualcosa di diverso da quello che si è abituati a sentire per qualcuno o per lo meno ti chiedo che il tuo spirito possa ungere le mie labbra le orecchie di chi sta ascoltando e che come gesù ha promesso possiamo essere guidati dallo spirito santo in tutta la verità ti ringrazio padre perché so che questa è la tua volontà e perciò tu adempirai questa mia richiesta non perché lo merito ma perché lo chiediamo nel nome di gesù amén nella scorsa presentazione in apocalisse 14 versetti 6 e 7 abbiamo esaminato l'evangelo eterno il messaggio del primo angelo e abbiamo visto che è un messaggio che deve andare in tutto il mondo prima del ritorno di gesù e abbiamo visto che anche l'unico messaggio che quando sarà proclamato in tutto il mondo porterà al ritorno di gesù ed è anche un messaggio che polarizzerà il mondo in due fazioni opposte in due categorie che arriveranno a un certo punto a prendere delle decisioni definitive per dio o contro dio parleremo un po più di questo quando esamineremo il capitolo 15 e la chiusura del tempo di grazia ma nell'ultima generazione ogni persona sulla base della predicazione del messaggio dei tre angeli sarà chiamata a prendere una decisione o adorare dio abbiamo visto secondo ciò che la bibbia insegna oppure oppure andare dietro a un sistema umano che si basa sulle tradizioni umane e perciò ogni persona che sarà vivente al ritorno di gesù avrà fatto una decisione definitiva o per dio o contro dio avrà ricevuto o il sigilo di dio o il marchio della bestia il messaggio del primo angelo invita a temere dio e abbiamo visto che nell'antico testamento quest'idea è legata molto spesso ad amare dio e a osservare i suoi comandamenti e anche a fuggire il male e abbiamo visto che per fuggire il male abbiamo bisogno di odiare il male ma solo la contemplazione di cristo crocifisso può far nascere odio per il peccato nel nostro cuore poi abbiamo visto che il messaggio del primo angelo invita a dare gloria a dio e in ogni aspetto della vita nella mente e nel corpo siamo chiamati a essere purificati da ogni contaminazione di carne e anche di spirito a glorificare dio nello spirito e nel corpo e poi il messaggio del primo angelo annuncia che è arrivata l'ora del giudizio che il giudizio in cielo è scoccato nel 1844 e che dovremmo vivere con quest'idea del giudizio sempre davanti ai nostri occhi dovremmo vivere con la consapevolezza che dobbiamo rendere conto a dio della nostra vita e che la presenza di dio è sempre con noi e dovremmo mettere al primo posto nella scala dell'importanza l'approvazione di dio e non quella degli uomini dovremmo vivere con questa consapevolezza come se dio fosse l'unico spettatore della nostra vita infine abbiamo visto che dio ci invita ad adorare ad adorare dio in quanto creatore vogliamo adorare dio in spirito e verità e c'è un diretto riferimento al comandamento del sabato nel messaggio del primo angelo quando dice adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque questo è un chiaro riferimento al comandamento del sabato quindi nel messaggio del primo angelo abbiamo due riferimenti all'osservanza dei comandamenti lo abbiamo nel temere dio che è un'idea abbiamo detto legata all'osservanza dei comandamenti e lo abbiamo anche nell'adorazione a dio in quanto creatore che è radicata proprio nel comandamento del sabato l'osservanza dei comandamenti tornerà lo vedremo anche la prossima volta nel messaggio del terzo angelo se c'è un messaggio che vi invito a non perdere una presentazione che mi invito a non perdere proprio quella della prossima volta Apocalisse 14, i versetti dal 9 al 12 vedremo il messaggio del terzo angelo chiuderemo quindi questa sezione sul messaggio dei tre angeli un messaggio che non vedo l'ora di poter presentare perché sono certo che vi toccherà il cuore un messaggio molto molto importante il messaggio del secondo angelo parla della caduta di Babilonia spirituale e segue il messaggio del primo angelo questo è un punto molto molto importante il secondo angelo segue il primo il terzo angelo segue il secondo questo significa che abbiamo detto il messaggio dei tre angeli va predicato nel suo ordine la volta scorsa abbiamo detto che l'evangelo eterno si trova nell'introduzione al messaggio dei tre angeli quindi il primo elemento che va presentato è l'evangelo che cos'è l'evangelo, come essere salvati, il piano della salvezza la morte di Gesù questi sono gli elementi che il mondo ha bisogno di sapere per prime però il messaggio del secondo angelo segue il messaggio del primo angelo a causa del rifiuto della maggioranza del messaggio del primo angelo e quindi pur essendo un messaggio unico questo è un messaggio in tre parti abbiamo detto va predicato nel suo ordine iniziando col messaggio del primo angelo l'evangelo eterno ma c'è anche un messaggio del secondo angelo che parla della caduta di Babilonia spirituale ed è un messaggio che ha senso di esistere solo a motivo del rifiuto della maggior parte del messaggio del primo angelo in altre parole credo che se la maggioranza del mondo accettasse il messaggio del primo angelo non ci sarebbe nemmeno stato bisogno di un messaggio del secondo angelo vedete quindi questo messaggio smaschera l'errore ma il modo migliore per smascherare l'errore è presentare la verità il modo migliore per dipanare le tenebre dell'errore è presentare la luce della parola di Dio e quindi il messaggio del secondo angelo non è un messaggio piacevole ma ha senso di esistere, ripeto, a motivo del rifiuto del messaggio del primo angelo delle verità contenute nel messaggio del primo angelo e perciò bisogna smascherare l'errore bisogna capire che queste verità sono verità sacre sono verità da accogliere che è una questione di vita o di morte è per questo che c'è la denuncia di Babilonia spirituale e la profezia della sua caduta nel messaggio del secondo angelo è a motivo della durezza del cuore umano all'influsso dello Spirito Santo è a motivo del rifiuto della predicazione della verità presente contenuta nel messaggio del primo angelo beh, un ultimo punto introduttivo il messaggio del primo angelo abbiamo visto la volta scorsa parla dell'ora del giudizio di Dio del fatto che l'ora del giudizio di Dio è già venuta quindi se c'è un popolo sulla terra la chiesa del rimanente che predica questo messaggio prima del ritorno di Gesù e dice l'ora del suo giudizio è già venuta vuol dire che il giudizio deve per forza iniziare prima del ritorno di Gesù almeno la prima fase del giudizio e quindi questo significa che il messaggio del primo angelo poteva essere pienamente predicato solo dopo il 1844 cioè solo quando ci si trovava già nell'ora del giudizio e così anche il rifiuto finale di Babilonia spirituale di ascoltare il messaggio del primo angelo è per forza seguente al 1844 perché per rifiutarlo pienamente prima il messaggio del primo angelo doveva essere predicato pienamente compresa la realtà del giudizio che è già in corso in cielo quindi la seconda come vedremo e definitiva caduta di Babilonia spirituale si situa nel tempo dopo il 1844 e in realtà come vedremo si situa ancora nel nostro futuro adesso andiamo a leggere Apocalisse 14 versetto 8 esamineremo solo questo versetto questa sera poi seguì un altro angelo dicendo è caduta è caduta Babilonia la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione quindi qua si usa un linguaggio che era stato già utilizzato per Babilonia letterale per la sua caduta in libro di Geremia e dice è caduta è caduta Babilonia la grande città ovviamente alla fine dei tempi non ci riferiamo più alla Babilonia del tempo di Daniele ma si parla di Babilonia spirituale per capire questo messaggio perciò dobbiamo identificare che cos'è Babilonia spirituale e non a caso Babilonia fu scelta qui a simbolo nell'Apocalisse come proprio per simboleggiare per rappresentare un potere nemico del popolo di Dio infatti nell'Antico Testamento Babilonia è stato il nemico per eccellenza del popolo di Dio i babilonesi distrussero il tempio di Gerusalemme e deportarono i giudei in cattività e che rimasero esiliati in Babilonia per ben 70 anni per capire che cos'è Babilonia spirituale alla fine dei tempi dobbiamo studiare le origini di Babilonia nell'Antico Testamento e troviamo le origini di Babilonia nel libro della Genesi gli abitanti della Terra tre generazioni dopo il diluvio sotto la guida di Nimrod che era il nipote di Cam costruirono la città di Babele e la città di Babele sorgeva, ci viene detto in Genesi 10 nella pianura di Shinar in Mesopotamia ed è interessante che la Bibbia ci dice in Daniele capitolo 1 versetto 2 che la città di Babilonia si trovava nella pianura di Shinar quindi da questo capiamo che la città di Babele è l'origine di Babilonia la parola ebraica Babel significa confusione e questo è anche un punto importante nella Bibbia Babilonia è sinonimo di diverse cose e la andiamo a vedere con ordine prima di tutto Babilonia è simbolo della ribellione contro la parola di Dio andiamo a esaminare Genesi capitolo 9 e anche la costruzione della torre di Babele in Genesi 11 dopo il diluvio Dio aveva ordinato a Noè e ai suoi figli siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra dopo il diluvio erano rimaste soltanto otto persone Noè la moglie, i tre figli, Semkamajafet con le tre mogli e gli abitanti della terra anziché ubbidire all'ordine di Dio di spargersi, di diffondersi per tutta la terra costruirono Babele in contrasto con l'ordine di Dio di spargersi su tutta la faccia della terra lo troviamo in Genesi 11 versetto 4 e queste sono le parole di chi ha costruito Babele la torre di Babele Orsù costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e poi dicono per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra e quindi dicono costruiamo Babele in sostanza per non essere dispersi su tutta la faccia della terra ma era esattamente quello che Dio voleva che si spargessero su tutta la faccia della terra quindi la costruzione di Babele rappresenta ribellione contro la parola di Dio questo è il primo elemento il secondo elemento è Babilonia rappresenta l'orgoglio umano l'uomo che esalta se stesso sempre il versetto che abbiamo letto in precedenza non l'abbiamo letto completamente Genesi 11 4 Orsù costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome vuol dire facciamoci una reputazione glorifichiamo noi stessi è simbolo dell'esaltazione dell'uomo che vuole glorificare e innalzare se stesso quindi gli abitanti della terra erano mossi dal desiderio di farsi un nome nel costruire Babele volevano farsi una reputazione erano mossi quindi dal loro orgoglio quindi Babilonia è l'emblema dell'uomo che vuole esaltare, innalzare se stesso al di sopra di Dio ed è interessante che troviamo lo stesso spirito lo spirito di Babilonia molti secoli più avanti nel libro di Daniele quando Nabucodonosor fu poi condannato a essere come una bestia dei campi per sette anni ebbene questa frase segnò la sua condanna definitiva perché dopo questa frase fu trasformato in una bestia per sette anni e disse guardando, contemplando le meraviglie di Babilonia disse così non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà vedete io, 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 io la mia maestà, la mia gloria Babilonia è simbolo dell'orgoglio umano dell'uomo che si vuole esaltare al di sopra di Dio il terzo punto che esaminiamo è la salvezza per opere Babilonia è sinonimo di salvezza per opere ovviamente a Babilonia esisteva una religione pagana e questo Babilonia del tempo di Daniele intendo e la salvezza per opere è una caratteristica che accomuna tutte le false religioni tutte le religioni pagane però vediamo nella sua origine la salvezza per opere anche nell'origine di Babilonia nella torre di Babele infatti dopo il diluvio Dio aveva promesso che non avrebbe più distrutto la terra per mezzo dell'acqua sappiamo che alla fine al ritorno di Gesù la terra è riservata per il fuoco del ritorno di Gesù e quindi Dio diede l'arcobaleno come segno del suo patto con l'umanità non avrebbe più distrutto la terra per mezzo di un diluvio che cosa fecero gli abitanti della terra? costruirono una torre la torre di Babele in modo che arrivasse fino al cielo vi siete mai chiesti perché? beh, voi potreste dire per come abbiamo letto prima per farsi un nome, no? una fama una torre che arriva fino al cielo ma c'è di più la questione è più profonda volevano costruire una torre che arrivasse fino al cielo perché non si fidavano della promessa di Dio che non avrebbe più distrutto la terra tramite un diluvio e quindi pensavano ricordate sono solo tre generazioni dopo il diluvio e già troviamo ribellione contro Dio però pensavano e se Dio mandasse un altro diluvio? beh, allora vogliamo costruire una torre che arrivi fino al cielo in modo da essere al sicuro se il livello dell'acqua si innalzerà di nuovo al di sopra delle montagne beh, noi saremo al sicuro su questa torre altissima e quindi la torre di Babilonia rappresenta il tentativo dell'uomo di salvare se stesso con i propri mezzi e quindi abbiamo detto la dottrina della salvezza per opere è alla base di ogni falsa religione la vera religione insegna infatti che noi siamo salvati per grazia mediante la fede e quarto punto la persecuzione del popolo di Dio Babilonia prima deportò i giudei distrusse Gerusalemme il Tempio di Gerusalemme il centro dell'adorazione sulla terra dove c'era la presenza di Dio e poi continuò a perseguitare il popolo di Dio anche dopo nell'esilio perché Daniele e i suoi amici furono perseguitati a motivo della loro fedeltà ai comandamenti in Daniele 3 leggiamo che Nabucodonosor fece erigere un'immagine d'oro e convocò tutti gli uomini importanti dell'impero affinché adorassero quell'immagine quell'immagine doveva essere il simbolo della gloria di Babilonia era tutta d'oro a simboleggiare il fatto che Babilonia non sarebbe mai dovuta passare e quindi abbiamo che i tre amici di Daniele non si inchinarono davanti alle immagini di Nabucodonosor e Nabucodonosor per tutta risposta li fece gettare nella fornace ardente quindi troviamo persecuzione del popolo di Dio sia nel fatto che i giudei furono deportati a Babilonia ma anche lì Babilonia continuò a perseguitare coloro che erano fedeli ai comandamenti di Dio in Apocalisse 17 Giovanni vide in visione Babilonia spirituale rappresentata dalla grande meretrice e vediamo alcune delle sue caratteristiche e vediamo che combaciano con quelle che abbiamo trovato fino adesso le caratteristiche che contraddistinguevano l'origine di Babilonia con Babele ma anche la Babilonia del tempo di Daniele quindi andiamo in Apocalisse 17 e leggiamo i versetti 1 e 2 Giovanni vide in visione la grande meretrice che dice sedeva sopra molte acque questo linguaggio interessante fu utilizzato anche per Babilonia letterale in Geremia 51 e il capitolo 17 lo abbiamo già letto in precedenza questo versetto però è la chiave per capire cosa sono le molte acque sulla quale sedeva la prostituta Apocalisse 17,15 dice le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue quindi il fatto che la grande meretrice siede sopra le acque mostra che ha potere che ha il potere di esercitare influenza sopra le nazioni, le moltitudini e i popoli ha autorità sopra di loro perché siede sopra di loro e questo è confermato dall'ultimo versetto di Apocalisse 17 il versetto 18 lo leggiamo insieme e la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra quindi se regna sui re della terra vuol dire che ha autorità al di sopra dei grandi della terra ma anche che esercita un'influenza globale al di sopra delle nazioni quindi la donna di Apocalisse 17 la grande meretrice rappresenta una chiesa abbiamo visto quando abbiamo studiato Apocalisse 12 la donna vestita di sole che stava in piedi sopra la luna che aveva la corona di 12 stelle abbiamo visto che era il simbolo del vero popolo di Dio nell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento e attraverso i secoli e abbiamo visto studiando quel capitolo che nell'Antico Testamento il popolo di Dio è paragonato a una donna alla sposa di Dio mentre nel Nuovo Testamento abbiamo che la chiesa è la sposa di Cristo quindi questa donna però è una donna immorale una meretrice perciò rappresenta una chiesa infedele una chiesa corrotta che non è più fedele alla parola di Dio diverse volte nell'Antico Testamento i profeti utilizzarono questa immagine l'immagine della prostituzione spirituale proprio per parlare della corruzione morale dell'immoralità del popolo di Israele e di Giuda quindi la denuncia dell'infedeltà del popolo di Dio era fatta tramite l'uso di questa immagine la prostituzione e un esempio su tutti è il profeta Osea al quale Dio ordinò di sposare una donna infedele una donna immorale lo trovate in Osea capitolo 1 e Osea doveva essere una parabola vivente del rapporto tra Dio e la sua sposa infedele cioè il popolo di Israele è una storia se volete unica nella scrittura però ci parla anche della straordinaria fedeltà e dell'amore di Dio per il suo popolo provate a pensare quanto soffrisse Osea nel vedere la moglie infedele a lui e quanto soffre il Signore quando vede il suo popolo coloro che si dicono cristiani seguaci di Cristo prendere quindi il nome di Cristo ma in realtà disonorarlo con la loro vita non essendo fedeli alla sua parola ma Dio dal canto suo promette sempre fedeltà alle sue promesse promette che riscatterà ogni persona che andrà a lui pentita Dio non smette di amare il suo popolo anche quando il suo popolo li volta le spalle quindi questa chiesa è una chiesa che ha commesso fornicazione lo abbiamo letto il versetto 2 la meretrice con la quale hanno fornicato i re della terra quindi una chiesa che ha commesso fornicazione con i potenti con i grandi con i politici con i re la fornicazione rappresenta una relazione sessuale illecita perciò il testo indica che questa chiesa ha una relazione illecita con il potere politico e questa è la relazione questa relazione è proprio l'unione di chiesa e stato che è qualcosa che è illecito agli occhi di Dio inoltre abbiamo già detto è una chiesa che ha un'influenza globale perché si parla degli abitanti della terra qui al versetto 2 dice gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione quindi ha un'influenza sui re della terra ma un'influenza globale su tutti gli abitanti della terra e infine questa influenza ovviamente è un'influenza negativa perché dice che tutti gli abitanti della terra sono inebriati cioè sono confusi col vino della fornicazione di Babilonia spirituale andiamo avanti a leggere i versetti seguenti Apocalisse 17 dal 4 al 6 e la donna era vestita di porpora e di scarlatto era tutta adorna d'oro di pietre preziose e di perle e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione sulla sua fronte era scritto un nome Mistero Babilonia la Grande la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra quindi vedete perché siamo andati in Apocalisse 17 questo è il capitolo nel quale troviamo le caratteristiche di Babilonia spirituale e siamo in grado di identificarla e così di spiegare il messaggio del secondo angelo continuiamo col versetto 6 e vedi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù e quando la vedi meravigliai di grande meraviglia questa chiesa ha grande ricchezza materiale lo trovate nel testo la donna era adorna d'oro di pietre preziose e di perle e poi i colori che indossa sono molto interessanti porpora e scarlato nella Bibbia troviamo questi colori la porpora e lo scarlato insieme all'oro e al violetto nelle vesti del sommo sacerdote qui in Apocalisse 17 troviamo la porpora troviamo lo scarlato troviamo anche l'oro perché dice che era tutta adorna d'oro ma non troviamo il violetto l'ultimo colore che faceva parte delle vesti del sommo sacerdote nell'Antico Testamento quindi troviamo tutti gli altri colori ma nella descrizione di questa donna manca il violetto e leggiamo in numeri 15 qual era lo scopo del colore violetto perché Dio ordinò agli israeliti di mettere un cordone violaceo sulle frange degli orli delle loro vesti e vediamo qual era lo scopo di questo cordone violaceo leggiamo da numeri 15 versetti 39 e 40 sarà una frangia alla quale guarderete per ricordarvi di tutti i comandamenti dell'Eterno e metterli in pratica e per non seguire invece il vostro cuore e i vostri occhi che vi portano alla fornicazione non è interessante che c'è un riferimento anche qui alla fornicazione e per evitarla era necessario questo cordone violaceo così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti e li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio quindi questo cordone di color violaceo sarebbe avrebbe dovuto ricordare agli israeliti i comandamenti di Dio guardandolo gli israeliti si sarebbero dovuti ricordare della legge di Dio ricordare il loro dovere di essere fedeli a Dio ma siccome la donna ha tutti i colori delle vesti del sommo sacerdote tranne il violaceo questo vuol dire che gli insegnamenti di questa chiesa sono contrari alla legge di Dio se il cordone violaceo serviva per ricordare i comandamenti di Dio beh questa chiesa ha degli insegnamenti che sono contrari ai comandamenti di Dio poi la meretrice aveva in mano una coppa e dice il testo al versetto 4 era piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione un linguaggio molto forte Geremia fece una descrizione simile dell'influenza di Babilonia l'influenza intossicante la definirei di Babilonia sulle nazioni dell'epoca si parla qua di Babilonia letterale delle nazioni che avevano bevuto dalla sua coppa trovate questo sempre in Geremia 51 e il contenuto della coppa di Babilonia spirituale qui inebria chi lo beve dice gli abitanti della terra al versetto 2 sono stati inebriati col vino della sua fornicazione poi un'altra caratteristica è che questa chiesa ha perseguitato il popolo di Dio perché il versetto 6 ci dice che era ebra del sangue dei martiri di Gesù questa descrizione così dettagliata e piena di elementi di caratteristiche non lascia spazio a dubbi amici la grande meretrice rappresenta la chiesa cattolica essa è certamente una chiesa che abbiamo detto esercita un'influenza globale sui grandi della terra il cui marchio di fabbrica è sempre stato l'unione di chiesa e stato questa è la sua fornicazione con i re della terra l'unione di chiesa e stato utilizzare il potere politico per i suoi scopi i suoi colori ufficiali sono la porpora e lo scarlato è certamente una chiesa che possiede grandi ricchezze e i cui insegnamenti sono contrari alla legge di Dio e che nel corso dei secoli ha perseguitato il popolo di Dio del piccolo corno che rappresenta il papato in Daniele 7 è detto che penserà di mutare i tempi e la legge quindi ha ha cambiato ha pensato di poter cambiare di avere l'autorità di cambiare la legge di Dio e sempre nello stesso versetto è detto che i santi furono dati nelle sue mani per i 1260 anni gli fu dato di far guerra ai santi e di vincerli quindi il vino di Babilonia spirituale rappresenta le sue false dottrine e notate che come chi si ubriaca con il vino ha la mente confusa cioè non lucida così le false dottrine di Babilonia creano confusione nella mente delle persone rendono torbi delle chiare acque della verità il vino di Babilonia spirituale rende la mente confusa leggiamo un brano da Isaia 29 dove si parla di persone ubriache ma non di vino Isaia scrisse costoro sono ubriachi ma non di vino barcollano ma non a motivo di bevande inebrianti l'Eterno infatti ha sparso su di voi uno spirito di torpore ha chiuso i vostri occhi i profeti ha velato i vostri capi i veggenti ogni visione profetica è divenuta per voi come le parole di un libro sigillato cioè non comprendete più la visione profetica ma sentite qua perciò il Signore dice poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini Gesù è interessante citò proprio questo passaggio di Isaia 29 per parlare ai giudei che avevano sostituito alle scritture le loro tradizioni in Matteo 15 è scritto così voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione Ipocriti ben profetizzò di voi Isaia quando disse e qui la citazione e in vano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini cioè che sono tradizioni umane al versetto 5 di Apocalisse 17 abbiamo letto Mistero Babilonia la grande la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra questa era la scritta sulla fronte della meretrice abbiamo identificato con la grande meretrice la chiesa cattolica ma il testo dice che è la madre delle meretrici quindi ha delle figlie e che sono anch'esse meretrici in altre parole la Babilonia spirituale degli ultimi tempi non è costituita solo dalla chiesa cattolica ma anche da quelle chiese protestanti che non hanno ancora rigettato tutte le false dottrine o tradizioni cattoliche prima di andare avanti voglio mettere in chiaro ancora una volta una cosa che questo non è un attacco ai fedeli delle varie comunità di fede diverse dalla mia non è un giudizio personale sulla loro esperienza di fede perché Dio ha un popolo in ogni chiesa e Dio giudicherà ogni persona in base alla conoscenza che ha ricevuto infatti al capitolo 18 Dio chiama popolo mio i fedeli che si trovano ancora nelle chiese che costituiscono Babilonia spirituale e che invita a uscire fedeli che invita a uscire da questi sistemi teologici però qui la profezia denuncia queste chiese come istituzioni proprio come sistemi teologici che cadono nell'errore quindi denuncia ciò che queste chiese insegnano e il loro rifiuto delle verità contenute nel messaggio del primo angelo le varie chiese protestanti hanno riscoperto alcune verità bibliche ma e hanno rifiutato alcune tradizioni cattoliche contrae alla scrittura faccio qualche esempio le chiese protestanti credono all'autorità della sola scrittura in materia di dottrina e hanno così rifiutato il ruolo della tradizione cattolica almeno a livello intellettuale poi vedremo che nella pratica forse le cose sono un po' diverse le chiese protestanti credono alla salvezza per grazia mediante la fede molto importante hanno rifiutato la dottrina cattolica della salvezza per opere le chiese protestanti credono al battesimo per immersione di persone adulte consapevoli di questo passo di cosa significa seguire Gesù almeno alcune chiese protestanti praticano il battesimo per immersione non tutte e così hanno rifiutato il battesimo per aspersione il battesimo dei neonati i chiese protestanti credono all'intercessione di Gesù e alla confessione dei peccati direttamente a Dio e hanno così rifiutato la tradizione dell'intercessione dei santi o della confessione dei peccati al prete però il problema è che le chiese protestanti pur avendo riscoperto diverse verità bibliche continuano a ignorarne altre certo aver scoperto e insegnare la salvezza per grazia mediante la fede di per sé è già un grande passo per uscire da Babilonia spirituale immaginate Babilonia spirituale come una stanza ebbene il passo di aver rifiutato la salvezza per opere è un grande passo verso la porta di uscita di questa stanza e infatti l'abbiamo detto prima la salvezza per opere l'insegnamento della salvezza per opere cioè che le mie opere possono acquistarmi dei meriti per la mia salvezza è la linea di demarcazione tra la vera religione e ogni falsa religione questo insegnamento la salvezza per opere accomuna ogni falsa religione del mondo in una forma o nell'altra però pur avendo riscoperto diverse verità continuando a condividere alcuni errori di Babilonia spirituale le chiese protestanti non sono uscite completamente da Babilonia spirituale perciò ne fanno ancora parte non sono uscite dalla porta di quella stanza perché ancora condividono alcune delle tradizioni cattoliche quindi pur dicendo di aderire al principio di sola scrittura cioè la scrittura è la scrittura soltanto come autorità in materia di fede di dottrina di fatto le chiese protestanti insegnano molte verità ma che ancora sono mescolate ad alcune tradizioni umane come per esempio la sacralità della Domenica e l'immortalità dell'anima torniamo adesso in Apocalisse 14 e rileggiamo il messaggio del secondo angelo poi seguì un altro angelo dicendo è caduta è caduta Babilonia la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione l'abbiamo detto questo linguaggio è tratto anche dalla caduta letterale di Babilonia in Geremia 51 8 il testo ripete per due volte il fatto che Babilonia è caduta e se la chiesa è caduta vuol dire che aveva prima iniziato bene e poi si è allontanata da Dio successivamente da una condizione migliore è passata a una condizione peggiore Gesù aveva detto alla chiesa apostolica simboleggiata dalla chiesa di Efeso nelle sette chiese dell'Apocalisse aveva proprio usato questa espressione la caduta in Apocalisse 2 versetti 4 e 5 hai lasciato il tuo primo amore ricordati dunque da dove sei caduto la chiesa apostolica aveva iniziato bene ma poi era caduta dall'esperienza del primo amore la profezia a cui in Apocalisse 14 parla di due cadute diverse del cristianesimo distanti molti secoli l'una dall'altra la prima caduta infatti avvenne nei primi secoli dopo Cristo e Paolo parlò di questa caduta in 2 Tessalonicesi 2 versetto 3 quando scrisse nessuno vi inganni in alcuna maniera perché quel giorno cioè il giorno del ritorno di Gesù non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato il figlio della perdizione l'apostolo Paolo predisse che la chiesa cristiana sarebbe caduta in apostasia e la parola greca abbiamo visto altre volte significa separazione divorzio la profezia di Paolo diceva che la chiesa avrebbe divorziato dal suo sposo cioè da Gesù la chiesa aveva iniziato nella potenza dello Spirito Santo al tempo degli apostoli mossa dal primo amore ma con la morte degli apostoli gradualmente eresie cominciarono a farsi sempre più strada nella chiesa e infine la chiesa cadde moralmente e l'apostasia della chiesa avrebbe preceduto la manifestazione dell'anticristo che è chiamato qui da Paolo l'uomo del peccato il figlio della perdizione l'apostasia della chiesa cristiana fu lenta e continua abbiamo visto quando abbiamo studiato le sette chiese eventi cruciali accaddero nel quarto secolo dopo Cristo il cristianesimo diventò religione di stato nell'impero romano e così masse di pagani entrarono a far parte della chiesa cristiana e con loro purtroppo anche i loro riti e le loro credenze le verità della parola di Dio furono sostituite da tradizioni pagane o tradizioni pagane se preferite furono rivestite di un abito cristiano di nomenclatura cristiana tra queste teorie umane tradizioni pagane che entrarono nella chiesa ci sono la salvezza per opere lo abbiamo detto ma anche la sacralità della domenica che era il giorno del Dio sole prima che però è diventato il giorno del Signore e poi il culto alle immagini e l'immortalità dell'anima l'intercessione dei santi e la confessione dei peccati ai sacerdoti Apocalisse 17 aveva profetizzato che la chiesa avrebbe fornicato con i re della terra e quindi essendosi separata avendo divorziato da Cristo il suo sposo la chiesa si è unita al potere dello stato e quindi il papa è contemporaneamente capo della chiesa e capo dello stato della chiesa e nel medioevo il papato ha dominato sui re d'Europa usando la sua influenza la sua influenza politica per adempire i suoi scopi ma il messaggio del secondo angelo parla di una seconda e definitiva caduta del cristianesimo di Babilonia spirituale e abbiamo detto all'inizio il messaggio del secondo angelo segue il messaggio del primo angelo e quindi la caduta di Babilonia spirituale è conseguente al suo rifiuto del messaggio del primo angelo ma abbiamo anche detto che il messaggio del primo angelo poteva essere pienamente predicato solo dal 1844 in poi perché annunciava che l'ora del giudizio era già venuta perciò anche il rifiuto completo del messaggio del primo angelo poteva avvenire è solo dopo il 1844 vediamo quindi che la caduta definitiva di Babilonia spirituale deve avvenire negli ultimi tempi in un tempo successivo al 1844 perché deve avvenire quando la piena luce del messaggio del primo angelo è presentata e quindi questa seconda caduta di Babilonia spirituale non può applicarsi alla chiesa cattolica perché questa era già caduta secoli prima nei primi secoli dopo Cristo perciò riguarda le sue figlie le figlie della meretrice di Babilonia 17 questa caduta di Babilonia spirituale include anche le chiese protestanti la cui caduta ripeto avrebbe seguito il rifiuto o seguirà il rifiuto del messaggio del primo angelo la maggioranza dei membri delle chiese protestanti rifiutò prima gli avvertimenti dei mille riti riguardo all'imminenza del ritorno di Gesù alla necessità di prepararsi per quegli eventi e poi ha rifiutato e continua a rifiutare la predicazione del movimento avventista che predica che l'ora del giudizio di Dio è venuta e la validità di tutti i comandamenti incluso il sabato le chiese protestanti come la chiesa apostolica avevano iniziato bene ma poi sono cadute moralmente ed è non è a caso che sempre nella lettera alle sette chiese nella lettera alla chiesa di Sardi che rappresenta alla riforma protestante Gesù aveva detto che dopo la loro nascita queste chiese erano diventate spiritualmente morte a causa del loro formalismo lo spirito del protestantesimo che i riformatori protestanti i padri di queste chiese avevano è andato per la maggior parte perduto nel tempo è il principio di sola scrittura l'adesione alla sola Bibbia come regola di fede come fondamento della dottrina pur essendo ancora sostenuto in teoria dalle chiese protestanti è nella pratica rinnegato quando i credenti rimangono ancora ancorati al loro credo senza più investigare le scritture questo fu il motivo principale del rifiuto delle verità proclamate dal movimento avventista e rifiutando queste verità le chiese protestanti sono cadute l'abbiamo detto le varie chiese protestanti avevano riscoperto diverse verità bibliche portandole all'attenzione del mondo ma anziché proseguire nella riscoperta delle verità bibliche le chiese protestanti si erano focalizzate non avanzarono oltre ciò che i loro padri fondatori avevano creduto si erano fossilizzate nella loro ricerca della verità addirittura alcune chiese protestanti diventarono esse stesse poteri che hanno perseguitato gruppi che riscoprivano nuove verità per esempio gli anabattisti che riscoprirono la verità del battesimo per immersione furono perseguitati dalle chiese riformate stesse e quindi abbiamo detto le chiese protestanti hanno riscoperto alcune verità ma anziché proseguire in questa corsa perché le verità furono riscoperte gradualmente da gruppi diversi si sono fossilizzate nei loro credi e hanno perso lo spirito vero del protestantesimo il principio della sola scrittura come regola di fede sono diventate formali attaccate ai loro credi e quindi la chiesa del rimanente è stata suscitata da Dio per portare a compimento l'opera della riforma protestante che era stata lasciata incompleta e quindi la chiesa del rimanente predica l'Evangelo Eterno ha certo raccolto quelle verità riscoperte prima della sua nascita dalla riforma protestante ma ha aggiunto altre verità per i nostri tempi però purtroppo il messaggio del primo angelo è largamente rifiutato prendiamo ad esempio due dottrine che sono di Babilonia spirituale ma che sono ancora parte del credo di molte chiese protestanti e cioè l'immortalità dell'anima e la sacralità della Domenica ecco due citazioni sull'origine dell'immortalità dell'anima che è totalmente strana dalle scritture non abbiamo questa sera il tempo di fare uno studio approfondito su questo ma potreste trovare molte affermazioni di 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 ebrei i quali credono certo nell'antico testamento che dicono che il concetto dell'immortalità dell'anima è totalmente strano alla visione dell'antico testamento la prima citazione è del reverendo George Waller che è un protestante non non uno che appartiene alla mia comunità di fede non è un avventista però sentite che cosa afferma l'immortalità dell'anima è una dottrina di origine pagana bene qua avete un protestante che lo ammette chiaramente fu insegnata da Socrate un celebre filosofo pagano e dopo di lui da Platone e dai platonisti dai quali uscirono alcune delle prime eresie della chiesa cristiana dei primi quattro secoli la seconda citazione di William Tyndale il famoso riformatore protestante inglese uno dei precursori della riforma avesse prima del tempo no scusate mi sto confondendo con Wycliffe fu comunque un riformatore protestante inglese sentite che cosa dice in una lettera a Sir Thomas Moore sistemandoli in cielo all'inferno e in purgatorio voi sta parlando ai papisti sta parlando ai cattolici voi distruggete gli argomenti con cui Cristo e Paolo dimostrano la risurrezione la vera fede afferma la risurrezione alla quale ci viene consigliato di aspettare in ogni momento i filosofi pagani rinnegando questo hanno detto che l'anima vive per sempre e il Papa ha unito insieme la dottrina spirituale di Cristo con la dottrina carnale dei filosofi e dice qua Tyndale l'insegnamento di Cristo di Paolo è quello di guardare alla risurrezione come unica speranza di vita oltre questa vita se voi leggete prima corinzi 15 è molto chiaro perché Paolo dice se non c'è risurrezione allora noi che cosa crediamo a fare mangiamo e beviamo godiamoci la vita perché non c'è vita oltre la morte Paolo dice se non ci fosse la risurrezione di Cristo perché la risurrezione di Cristo è garanzia della risurrezione dei credenti ma in altre parole Paolo sta dicendo se non c'è la risurrezione corporale al ritorno di Gesù non c'è alcuna vita dopo la morte in altre parole sta dicendo i morti quando muoiono non vanno direttamente in cielo non sono col Signore direttamente se non ci fosse una risurrezione Paolo dice mangiamo e beviamo perché questa è l'unica vita che avremmo ma grazie a Dio c'è una risurrezione ma la risurrezione del corpo è l'unica speranza di vita oltre questa vita la Bibbia non insegna che l'uomo ha un'anima immortale l'immortalità è un dono soltanto di Dio non è intrisica nell'uomo ma è un dono che l'uomo può ricevere solo da Dio e in Genesi 2 7 nella creazione dell'uomo è detto che quando Dio soffiò l'alito di vita nelle narici di Adamo l'uomo divenne un'anima vivente la Bibbia non dice che l'uomo ha un'anima immortale la Bibbia dice che l'uomo è un'anima non che ha un'anima e quando l'uomo muore il soffio vitale di Dio lo spirito se volete torna a Dio e in questo ci sono incluse sì tutte le caratteristiche la personalità di quella persona che li verrà restituita al ritorno di Gesù alla risurrezione finale ma non c'è vita dopo la morte senza la risurrezione del corpo la risurrezione finale sarà come una sorta di seconda creazione perché Gesù soffrirà di nuovo quell'alito di vita contenente tutte le informazioni sulla personalità e il carattere di quella persona e ricreerà unendola alla polvere della terra ricreerà quella persona ma la Bibbia insegna chiaramente che la morte è un sonno che i morti sono incoscienti in attesa di essere risvegliati alla risurrezione adesso leggiamo qualche citazione che parla del cambiamento dal sabato alla domenica ma ci tengo a sottolinearlo nessuna di queste citazioni proviene da teologi da autori della mia comunità di fede e abbiamo la prima che è di Charles Buck che è un metodista sentite cosa scrive sul sabato sabato in ebraico significa riposo ed è il settimo giorno della settimana e si deve riconoscere che non c'è legge nel nuovo testamento che riguardi il primo giorno la seconda citazione è il dottor Hiscox che è un battista autore di Baptist Manual il manuale dei battisti è un po' più lunga questa citazione seguitela con attenzione c'era e c'è un comando di santificare il sabato ma era il giorno di sabato non la domenica prontamente verrà detto e mostrando un'area di trionfo che il giorno di riposo è stato trasferito dal settimo al primo della settimana con tutti i suoi doveri privilegi e autorizzazioni desiderando intensamente avere informazioni su questo argomento che ho studiato per molti anni chiedo dove si possa trovare traccia del cambiamento cioè il cambiamento dal sabato alla domenica e risponde non nel nuovo testamento assolutamente no non c'è evidenza nelle scritture del cambio dell'istituzione del sabato dal settimo al primo giorno della settimana e ripeto queste sono citazioni di teologi protestanti metodista battista non della mia comunità di fede ma ammettono candidamente che nel nuovo testamento non c'è traccia del cambiamento dal sabato alla domenica e infatti non c'è alcun testo nel quale Gesù e gli apostoli abbiano detto che la sacralità del sabato doveva essere trasferita alla domenica in onore della resurrezione di Gesù ricordiamo che la chiesa cattolica afferma di aver cambiato la sacralità del sabato alla domenica per sua stessa autorità non ha bisogno di una prova scritturale dice l'abbiamo cambiata noi perché avevamo autorità di farlo e che la profezia biblica diceva che il piccolo corno di Daniele 7 cioè il papato avrebbe cercato di cambiare i tempi e la legge la legge di Dio si intende notiamo la seguente citazione che abbiamo già letto in un incontro passato è tratta dal catechismo cattolico domanda perché osserviamo la domenica invece del sabato risposta noi osserviamo la domenica invece del sabato perché la chiesa cattolica ha trasferito la solennità dal sabato alla domenica quindi il problema sorge quando i protestanti affermando di aderire al principio sola scrittura la Bibbia e la Bibbia soltanto come autorità in materia di fede in realtà accettano una tradizione umana al posto della verità del sabato fonti cattoliche sfidano la coerenza dei protestanti che pur affermando di seguire solo la Bibbia rifiutano di osservare il sabato notate le due citazioni seguenti sono da fonti cattoliche non lo sto dicendo io non lo sto dicendo qualcuno che appartiene alla mia comunità di fede sono fonti cattoliche la prima è datata 1883 John Gilmary Shia il protestantesimo nello scartare l'autorità della chiesa cattolica non ha alcuna buona ragione per la sua teoria della domenica e dovrebbe logicamente osservare il sabato quale giorno di riposo vedete come questo autore cattolico sfida i protestanti voi dite di seguire la Bibbia e la Bibbia soltanto se foste coerenti con questo principio dovreste osservare il sabato non la domenica perché la domenica è un'istituzione cattolica la chiesa ha mostrato la sua autorità col cambiamento dal sabato alla domenica non c'è prova scritturale di questo la seconda citazione è datata 1995 il giorno del signore fu scelto non per alcuna indicazione che si trova nelle scritture ma dalla concezione che la chiesa cattolica ha del suo potere cioè della sua autorità che è in grado anche di cambiare la legge notate cosa dice il resto della frase e vi prego notate non lo sto dicendo io è una fonte cattolica chi pensa che la scrittura dovrebbe essere l'unica autorità dovrebbe logicamente diventare avventista del settimo giorno e santificare il sabato se vogliamo aderire al principio di sola scrittura veramente fino in fondo dobbiamo rifiutare tutte le tradizioni umane che fanno parte di Babilonia spirituale dobbiamo rifiutare il concetto di immortalità dell'anima dobbiamo rifiutare la sacralità della domenica e aderire al sabato biblico istituito da Dio alla creazione e Gesù disse che il sabato è stato fatto per l'uomo non solo per gli ebrei non solo per gli israeliti il sabato è un dono di Dio all'umanità intera è un Dio che vuole spendere 24 ore con te senza alcuna distrazione di mezzo senza il lavoro di mezzo senza i pensieri le preoccupazioni i problemi un giorno in comunione con lui e con i fratelli il messaggio del secondo angelo notato in conclusione che è l'unico dei messaggi dei tre angeli che non è proclamato a gran voce in Apocalisse 14 il motivo per cui ancora il messaggio del secondo angelo non può essere proclamato a gran voce è che Babilonia spirituale non è ancora caduta definitivamente e completamente non è ancora fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua fornicazione la caduta di Babilonia però sarà completa quando addempirà ciò che è scritto in Apocalisse 13 cioè quando promulgherà una legge domenicale imponendo falsa adorazione a tutte le nazioni della terra e in questo cattolici e protestanti dell'America prima saranno uniti solo e solo allora Babilonia sarà completamente caduta quindi quando l'imposizione dell'osservanza della domenica sarà una realtà quando il marchio della bestia sarà su di noi allora anche il messaggio del secondo angelo sarà proclamato a gran voce infatti in Apocalisse 18 abbiamo la ripetizione del messaggio del secondo angelo ma questa volta è a gran voce e perché Apocalisse 18 si situa in un tempo nel quale è già stata passata la legge domenicale per cui oggi non è ancora il tempo di proclamare questo messaggio a gran voce perché Babilonia spirituale non è ancora caduta completamente ma quando passerà una legge domenicale imponendo l'osservanza della domenica in tutto il mondo in America prima e poi in tutto il resto del mondo allora sì Babilonia spirituale sarà completamente caduta e ci sarà l'ultima chiamata in quel tempo ad abbandonare questi sistemi ad abbandonare Babilonia spirituale ad abbandonare queste false credenze e a unirsi alla chiesa del rimanente al popolo di Dio degli ultimi tempi però anche se quel giorno non è ancora arrivato anche se la crisi del marchio della bestia non è ancora iniziata oggi stesso Dio ti chiama Dio ci chiama a seguire la sua parola in tutto ciò che insegna Gesù disse in Giovanni 17 17 santificali nella tua verità la tua parola è verità e in Giovanni 8 32 Gesù disse se dimorate cioè se continuate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi la verità della parola di Dio ci libera dalla confusione provocata dal vino di Babilonia spirituale dalle sue false dottrine e quando abbiamo chiaro il quadro completo delle verità bibliche allora vedremo l'immagine di Dio in tutta la sua bellezza e sapete la verità convince l'intelletto e la verità converte il cuore la verità è sia logica sia attraente è in grado di parlare alla mente ma anche al cuore la verità di Dio ci rende liberi dalle false concezioni dalle false immagini di Dio e quando la comprendiamo nella sua interezza allora abbiamo di fronte agli occhi l'immagine più bella possibile che possiamo avere di Dio il sabato ne è un esempio quale immagine straordinaria di un Dio che ha messo da parte un giorno della settimana per stare solo con te perché tu possa stare solo con lui vi parla di un Dio che vuole essere intimo con le sue creature che vuole avere una relazione profonda con loro di un Dio che vuole un momento senza interruzioni senza distrazioni proprio come un appuntamento speciale se volete come un anniversario che una coppia celebra una volta all'anno ma Dio ci chiede di celebrarlo una volta alla settimana per ricordarci che Egli è il nostro creatore e il nostro Redentore preghiamo insieme caro Padre ti ringraziamo che nella tua parola sono contenuti non solo incoraggiamenti ma anche avvertimenti e questa sera sicuramente abbiamo letto delle parole che non sono facili da ascoltare possono sentire risultare anche dure ma io ti prego che ciascuno dei miei ascoltatori qui possa essere certo dell'amore che tu hai per lui o per lei io so che tu giudicherai ogni persona in base alla conoscenza che ha ricevuto non riterrai responsabile chi non ha conosciuto alcune verità del fatto di non averle messe in pratica ma allo stesso tempo ci stai chiamando a riscoprire il messaggio dell'Evangelio Eterno nella sua completezza nella sua interezza comprese la verità del sabato così importante che sarà come un test per l'ultima generazione Padre vogliamo essere trovati fedeli alla tua parola sappiamo che la crisi del marchio della bestia non è ancora oggi una realtà ma anche se non lo è tu ci chiami a essere fedeli a te oggi come disse Pietro bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini così vogliamo investigare le scritture scoprire ciò che insegnano veramente ed essere fedeli a tutto ciò che insegnano mettendo da parte ogni tradizione umana perché così potremmo vederti in tutta la tua bellezza per quello che tu sei veramente liberi dalle false concezioni che girano su di te nel mondo ti prego che questa possa essere la nostra esperienza guida tu nella ricerca ogni persona che a cuore sincero ti ringrazio e ti chiedo ogni cosa nel nome di Gesù Amen che il Signore ci benedica e ci vediamo la volta prossima grazie a tutti